ciao a tutti ragazzi e bentornati anche oggi nel canale mi trovo qui a al terreno e sto cambiando l'acqua alle galline ora li metto il tappo ecco qua e posso riaprire sotto ecco fatto oggi sto qui appunto come come dico anche il video per fare gli auguri di natale e anche per mettere un po di pane alle galline così che se che si scalano un pochino poi ci metto il pane oltre al pane ragazzi sono passato a prendere un po di mangime e il mio rudolf mi aiuta in queste in queste mansioni adesso io ho levato perché sennò lo tira dappertutto adesso mi dedico a mettere anche un po di maniato di becchino perché l'hanno finito e poi ho finito per oggi iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io e la mia piccola renna, Rudolf, vi auguriamo a tutti un buon Natale e felice feste. Ringrazio a tutti quanti per seguirmi sempre. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.